eccomi con la seconda parte allora mi rimasta qui penso allora fai il pieno completo il tuo programma quotidiano di bellezza soli 1,95 l'uno 200 ml allora c'è la linea planet spa la linea skin skin si ok quindi allora lo spray secco per il corpo l'olio perfezionatore e l'altro olio secco per il corpo questo è la linea gold golden poi scusa qui sono praticamente allora vabbè qui c'è la cipra il martito in labbra il mascara super shock in edizione speciale questi qui sono praticamente dei set sono tutti set di varie tipologie appunto di platinum praticamente platinum vitalize per 50 anni più di 40 anni l'ultimate per più di 50 anni e poi c'è il platinum che ha più di 60 per pelli con più di 60 anni e qua appunto spiega spiega no scusate stavo dicendo pensavo ad alto questo è il set regalo appunto 21,95 ed è questo set regalo sono potenzionatore 10 ml quindi sono mini size credo poi sempre la linea allora la linea boncare questa è quella natalizia sì quindi crema mani fluido per il corpo per le labbra e per il viso questo sì poi planet spa no allora l'ultima è dunque la quattro è che sono i numerini buh vabbè comunque insomma questi insomma mani mani e unghie body lotion come vi ho detto prima la labbra e questa per tutta la famiglia insomma poi ancora la linea planche spa uno due tre sempre questi sono sempre in edizione più o meno natalizia sì e in regalo con soli con soli non niente allora adesso vi dico i dettagli comunque il runner da tavolo con le luci red a soli 1495 vi dico subito come vi dico immediatamente come fare ad averlo che è questo praticamente non è questo perché qua non c'è scritto perfetto allora praticamente per ogni prodotto ordinato da queste due pagina insomma per ogni prodotto ordinato da pagina 202 233 potete avere appunto la runner da tavolo con le luci red a soli 1495 e allora pagina 202 praticamente da appunto da qua insomma da sì insomma da qua da qua fino alla fine del catalogo poi vabbè altri set poi qui c'è Hello Kitty Alpi Planet Spa Boveda Tante Corpo Kit di Hello Kitty e poi Fire Away Profumo il profumo il set a soli 1795 crema corpo il profumo appunto e la che è una profumata questo è sì crema sì crema corpo che è una profumata e il profumo poi un altro set come quello sempre però di questa di Dreams per lui altri set Black Swan poi ci sono vari stampini natalizi già questa è la calza della bifana da colorare fantastica poi i pigiami gli ultimi sono per lui ciabatte con questo pigiamo con su la renna pigiamone pantofole pantofole pigiamone sono sempre questi orecchini oppure questi nell'albero di Natale poi questi braccialetti con le iniziali poi le candele profumate allora stelline luminose comunque sono tutte decorazioni decorazioni per l'albero oppure le candele candele senza fiamma con i glitter altre cose natalizie appunto per la tavola di Natale per il pranzo per queste sono carinissime peccato che comunque hanno su vabbè questo è sul fiocco di nere quindi la tazza con la tipo con il maglione che suona anche e ancora vabbè cose da cucina un guantone cose per le bottiglie e qua la runner che vi dicevo prima di cui vi parlavo prima e poi vabbè niente appunto coprisedia che l'anno scorsa una cliente mi ha preso ancora la runner e poi il prezzo migliore dell'anno sono 3,95 ed è appunto la punta doppio effetto appunto votate il polso per cambiare tutto è un evidenziatore insomma con questo eyeliner e poi bagno speciale natalizio santa claus o lavenna progno e vaniglia o mele cannella a sole 2,50 all'uno va bene e nulla vi saluto se faccio in tempo poi vi faccio vedere tanto comunque questo è veloce però questo è di campagna e questo è di campagna 14 e nulla con le borse stili va bene e niente vi saluto riscontatevi di fare l'ordine ma manca un sacco di tempo e vi aspetto al prossimo video ciao